Buongiorno, oggi faremo una mousse light di ricotta al limone con una base di biscotti. Allora, questi sono 14 biscotti secchi galbusera integrali, ok? Con i pochi zuccheri. Li andiamo a macinare in questo sacchetto per alimenti. Allora, i biscotti, eccoli qua. Io con una bottiglia sopra l'ho ripassata un po' di volte e sono macinati così, ok? Qui abbiamo due etti di ricotta, poi la scorza di un limone, un bel limone grande e grattugiato. Lo stesso limone che ho grattugiato ho spremuto, togliendo l'impurità, sempre col colino. E qui abbiamo il limone spremuto e poi otto foglioli di menta, ok? Infine, un cucchiaio di fruttosio. Allora, adesso aggiungerò un cucchiaio di fruttosio alla ricotta, il limone, prima aggiungo la scorza di limone. Poi aggiungo il limone spremuto, il cucchiaio di fruttosio e vado poi a sbattere con questa frusta, cioè a lavorarlo, scusate, con questa frusta a mano. Tanto possiamo anche farlo a mano senza quella elettrica. Un cucchiaio molto raso di fruttosio, proprio per non farlo venire nemmeno troppo dolce, ok? Saranno 20 grammi. Poi aggiungete un mezzo limone ancora spremuto ai biscotti macinati, ok? Giriamo, che così diventano un po' meno friabili. E qui poi invece la ricotta, lavorata per 4 minuti, è a posto. Andiamo ad assemblare. Ok, i biscotti li ho messi in questa ciotolina, sono due ciotoline. E adesso, con una sac à poche, andrò a mettere la ricotta a mousse. Voilà, ecco qua. La nostra merenda, o anche dessert, come volete, è pronta. Adesso lasciamo soltanto riposare un po' in frigo, una quarantina di minuti, ed è pronta da gustare. Ok? Alla prossima! Buona degustazione!